Allora ragazzi di italianolondra.net, sono insieme a Antonio Cannizzaro che oltre a essere un mio ex collega del McDonald's, è una persona che vive qui a Londra da 5 anni, lavorando nell'ambiente bar e ristorazione. Allora, quali sono i pro di un trasferimento a Londra? I pro sono la... A faccia di abbassare perché devi entrare, qui dentro? Va bene, il pro di una vita a Londra è che ti puoi costruire una famiglia, puoi avere la tua indipendenza, cosa che in Sicilia adesso non è molto facile fare. Cosa direste a quelli che dicono che Londra è cara, che non ci si può più fare? Londra è cara, Londra è cara, certo magari se vai a mangiare ogni sera fuori e ti vai a uscire fuori non ci bastano i soldi, però ti permette di avere una casa tua, poi a lungo andare, non subito magari, e ti permette comunque di lavorare e di avere le tue soddisfazioni lavorative. Allora, tu hai iniziato come barista, ancora non si vede dove siamo, tu hai iniziato come barista. Ora tu sei? Sono adesso assistant manager. Assistant manager. Sono una famiglia. Che sarebbe tipo vice direttore? Diciamo che sono... Dopo il bar manager comando io. Dopo il bar manager comando io. Allora, siamo in un posto di quelli fighi, di quelli che si vedono in televisione e io lo faccio vedere qua, ecco qua, dove mediamente una consumazione quanto costa qui? Sopra i 10 pound sicuramente. Sopra i 10 pound, quindi siamo in un posto di ruso. Diciamo che per due persone per mangiare qua, mangiare e bere qui ci vogliono almeno 200 pound. Ah, bene, bene. Allora, questo è il posto che fa per me, almeno come cliente, però ringraziamo Antonio Cannizzaro per questa testimonianza. I contro. I contro, ah, i contro. I contro a Londra, i contro sono, va bene, la vita alta. Ok. Che devi vivere in un buco, praticamente, e i mezzi di trasporto che li comincerai ad odiare. Allora, precisiamo, i mezzi di trasporto ci sono e funzionano. Sì, funzionano alla grande, tutto funziona alla grande qui, tutto. Tutto funziona alla grande. Vedi la Sicilia? L'opposto. L'opposto. Però gli paghi. L'abbonamento, mediamente per due zone, va dai 24 pound a settimana a 34. Io oggi ho fatto quello di una settimana a 34. Però gli paghi con piacere. Gli paghi con piacere perché funziona. Perché funziona tutto. Allora, salutiamo, ringraziamo tutti quelli che stanno condividendo e ricondividendo i video, anche quelli vecchi, e ci diamo appuntamento a domani. Seguite Duri che è un grano. Grazie, anche Antonio Canizzaro con altre novità. E ti ho dato papà da poco. Ciao ragazzi. Ciao Rita. 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 Grazie a tutti.